La felicità si ha quando sono equilibrati questi tre fattori. Sentire, pensare e agire. Questi tre fattori devono essere in equilibrio. La felicità è in equilibrio quando noi abbiamo un equilibrio tra sentire, pensare e agire. Cioè noi sentiamo le nostre emozioni, pensiamo e agiamo. Ve la faccio vedere al contrario. Quando noi non sentiamo, ma semplicemente pensiamo e agiamo, come stiamo? Ditemele voi, vediamo se ci arrivate. Allora, pensate a una persona che pensa e fa, pensa e fa, non sente le emozioni. Com'è questa persona? Apatica? Stressata. Lo stress viene quando noi non sentiamo, ma pensiamo e facciamo. Che devo fare? Lo faccio, che devo fare? Lo faccio, che devo fare? Lo faccio. Devo studiare? Devo stare e studiare? Non sento. Quindi devo lavorare sul sentire di più quello che faccio. Capite perché vi sto spiegando questa cosa, ragazzi? Perché vi voglio dare come la radiografia, cioè vi voglio far vedere voi come siete fatti, cosicché avete gli strumenti per osservarvi, capire. Ah ok, devo lavorare sul sentire, devo sentire di più. Devo sentire. Perfetto. Respiriamo, sentiamo, assaporiamo. Poi, vediamo invece cosa accade quando sentiamo, non pensiamo e facciamo.